Benvenuti al San Siro, un saluto da Fabio Boressa e Beppe Bertoli. È difficile fare pronostici, le squadre affrontano senza dubbio l'incontro di oggi con la giusta mentalità. Sanno entrambi infatti che si tratta di uno di quegli incontri in cui i punti quasi valgono. Vado a tornare Ronaldinho e c'è spazio per l'inserimento. Quasi un gesto di sfida, questo del portiere che ha falso insuperabile in questa occasione. È riuscito a far su il pallone con la massima naturalenza. Il pallone è allontanato dai piedi con il portiere. Natali per il noncio. Ronaldinho Cercherà un compagno in aria. Ottimo recupero, era l'ultimo uomo. E' il portiere del mio palco di nuovo. Che incredibile, il pubblico di casa. Che risposta a questa rete. L'innovazione incredibile. La rete giunta. Esulta giustamente perché vedremo la caduta. Intercettato. Siglo. Abate. Il compagno a scarta sulla faccia destra. Abate. Sta cercando la posizione giusta per effettuare il cross. Pallone che finisce tra la braccia del portiere. Davide Bagliocco. Sibina. Vega. La da destra si libera sua fascia. Un passaggio di qualità. Attacca in profondità. La posizione è un buon lavoro. C'è la posizione della posizione. L'arbitro per Maggiore si ripartirà con una punizione. Nicola Scordova. Sibina. La prima faccia di gara sta per chiudersi. Bella partita. Davide Bagliocco. Davide Bagliocco. Il compagno sulla destra si libera, aspetta il passaggio. Nicola Scordova. Sbubera bene il difensore. L'arbitro è una tradizione a prendere un teccario. Si vanno gli spogliatori sul risultato di uno a due. Chissà quali direttive avranno dato due allenatori alle proprie squadre durante l'intervallo. Sibina. Zoboli. Davide Bagliocco. Ed è... L'ambrotta. Prova ad andare il Ronaldinho. Il portiere ci è arrivato con la punta della dita. Nesta. Abate. Cerca di sfruttare la fascia. Probabilmente si porterà sul fondo per grossare. Cerca un barco a un attimo. Palla finisce fuori. Pare che ci sia una sostituzione in atta. Vendo che questo cambio, fatto in questo momento, possa essere decisivo per la partita. Difessori mantengono il sangue pelle. Caraccio lo prova ad andare. Nicola Scordoa. Zoboli. Il pallone viene intercettato. Ambrosini. Zoboli. 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 Ben lanci in avanti. Copagno scatta sulla faccia destra. Ronaldinho. Le cose si mettono bene per lui. Fanno la possibilità di evitare in mezzo e insistere nella loro azione del decante. Zlatanibra in vici. Un gran tentativo. Chiù fornata. Il contore ha evitato il ballo e ha bloccato la palla. La posizione era ottima. Doveva calciare meglio da lì. Il portiere è convinto che i giochi non siano ancora fatti. Calcia il pallone con forza. Ed è... Solo un minuto di recupero. Cerca di controllare bene Ronaldinho. La da destra si libera sulla fascia. Un'azione travolgente da sua. Un'azione tra il pallone con il pallone con il pallone con il pallone.